ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video si tratta del secondo unboxing che faccio nell'ultimo periodo a differenza dell'altro in cui non sapevo assolutamente che cosa ci fosse dentro al pacco perché non ricordavo che cosa con che azienda avevo preso contatto in questo caso è un ordine che mi è arrivato da amazon quindi so esattamente che cosa c'è dentro il pacco e penso che possa interessare anche a voi non vi faccio vedere il pacco perché so che è una cosa fragile ho paura che si rompa quindi direi di passare immediatamente all'unboxing Grazie per la visione 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 Grazie per la visione